con l'obbligo di ritenziare i convenuti, augurare buona domenica a tutti e una sola per dire non andate via perché c'è un rinfresco, è un pese augurale, lo stesso pese che speriamo di fare il 7 di maggio a conclusione delle consultazioni elettorali. Grazie a tutti, bravamente. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.